Alla fine di questa campagna elettorale è secondo me importante che le elettrici e gli elettori ticinesi si rendano conto che molte delle posizioni sostenute, soprattutto sui problemi della socialità da parte dei candidati dei partiti borghesi e dell'Udc, non corrispondono per niente alle posizioni dei loro partiti nazionali. E' quindi chiaro che se loro fossero eletti una volta che saranno nel Parlamento dovranno seguire quello che dice la direzione del loro partito, per esempio sull'innalzamento dell'età di pensionamento a 65 anni per le donne, a 67 per gli uomini che qui loro negano o anche sul problema delle casse malati dove le direzioni dei loro partiti vogliono semplicemente tagliare le prestazioni che vengono pagate ai partiti. Se parliamo poi dell'AVS, su questo tema si fa del terrorismo, come se l'AVS fosse veramente alla fine e non invece solida come è. E' evidente che noi l'AVS dobbiamo rafforzarla, ma non perché sta male, ma perché sta male il secondo pilastro che dipende dal mercato dei capitali e quindi tra qualche anno sarà solo l'AVS a salvarci. Prima di tutto è importante che gli elettrici e gli elettori si rendano conto che non è vero che l'AVS sta male perché diminuisce il numero di coloro che lavorano, perché l'AVS dipende non dal numero di chi lavora ma dalla massa salariale. Quindi basterebbe aumentare un po' i salari, diminuire la sottooccupazione, diminuire il precariato e già i conti dell'AVS tornerebbero ad essere perfettamente a posto. Ma però dobbiamo rafforzarla, come ho detto, perché il secondo pilastro sta male. E come si fa a rafforzarla? Ci sono diverse possibilità, sicuramente non aumentando l'IVA che è antisociale, ma per esempio utilizzando qualche miliardo tra quelli che la Confederazione fa sempre di guadagno ogni anno, o usando le enormi e in gran parte inutili riserve della Banca Nazionale o mettendo una piccola tassa sulle transazioni finanziarie elettroniche o sui robot o se proprio fosse necessario mettendo una tassa sulla ricchezza dell'1% dei più ricchi in Svizzera. Ma qui soprattutto per l'Udc cade l'asito, perché loro naturalmente vogliono evitare qualsiasi tasso sulla ricchezza dei stramiliardari che dominano nel loro partito. E quindi per evitare questo cosa propongono? Propongono di tagliare di un miliardo l'aiuto allo sviluppo dei paesi poveri, dei paesi africani, dei paesi Sud America. Non stiamo parlando del miliardo di coesione contro il quale anche noi siamo, perché andrebbe a rafforzare all'interno dell'Unione Europea i paesi fascistoidi dell'Est. No, parliamo dell'aiuto svizzero ai paesi più poveri del mondo. Ora, io sento molto bene nelle mie orecchie quello che i rappresentanti dell'Udc hanno sempre detto nel Parlamento, hanno sempre detto in televisione, hanno sempre detto dappertutto quando si parlava di migranti. Aiutiamoli a casa loro così che non debbano emigrare. Ora invece di aiutarli a casa loro vogliono togliere ancora un miliardo da quegli aiuti svizzero all'estero che già sono abbastanza ridotti. Su questo tema la politica dell'Udc, oltre a essere doppio giochista, dire qualcosa e poi proporre qualcosa d'altro, è per evitare eventualmente una tassa sulla ricchezza dei stramiliardari togliamo il pan di bocca a quelli che stanno già morendo di fame.